E' brutto Sì, vabbè Dai, dai, sì, puoi? Certo, certo, esce dalla tipo, esce Salve a tutti ragazzi e bentornati Siamo alla decima missione, Acqua e Straripanti Con i nostri personaggi che a quanto pare stanno invecchiando A furia che passano gli anni e siamo sempre più vicini al collegamento con Io-1 Sì, vabbè Sì, vabbè Sì, vabbè Sì, vabbè 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 Credo che mi abbiano visto Ho un motivo di credere Vabbè 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 Ve Adesso prende le medicine Wow Dai Male 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 Ciao bellezza Hmm What the hell Hmm Hmm Come ho fatto a mancarlo? No Il nostro nuovo amico Da qui La capra Dai Vabbè però dai Non mi far irritare Oh si sta bene Senta qui però è un casino Vieni qua, non scappar Dov'è? Dov'è? Wow Botta Dai Fatene Wow Con l'ultimo colpo Non avevo più niente Né anima Né cliente E niente Ce l'abbiamo fatta Facciamo La danza sua Fantastico Perfetto Perfetto Andiamo avanti Dov'è? Qua Oh To C'è 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 Allora dovresti rinforzare l'acqua. E' meglio anche tu. Per il risultato, non c'è il risultato. E' un'altra cosa. Allora... E' un'altra cosa. qualcosa di nuovo e poi se ne va se c'è niente qua no cosa sono i dinosauri portapilla perfetto mi lasceranno prendere tutto il merito iniziamo bene wow ma che cos'è abbiamo spider man che si è fatto di red bull allora scappa scappa ecco beh sono sopravvissuto ecco ancora per poco proviamo diamo un po la falce devo dire che è comodissima con l'impugnatura alta e l'attacco base se li colpiamo le zampette togliamo molto di più ecco ho tolto il doppio attaccandogli la zampetta il problema è che dopo un po' non si può più attaccare la zampa è molto comodo abbassare anche le difese però troppe magie insieme è difficile da usare quindi bisogna scegliere quella più comoda al caso nostro cioè io in genere ne uso una poi finisce quella passo alla prossima perché il tempo che le lancio tutte insieme finiscono gli effetti è il più comodo secondo me è il talismano che assorbe assorbe vita dai che siamo a metà dove sono finito? dentro mi salta sempre in testa scappa scappa no abbassiamole un altro sulla difesa no la falce è davvero troppo troppo forte con l'impugnatura alta nel senso che all'attacco base che fa un doppio attacco in un tempo molto molto breve continuo a saltellare va vai bisogna fare veramente attenzione quando è così dopo la metà del combattimento diventa dura eh sto quasi fatta no 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 fa buono fate ammazzare sì vai sì e vai è stato lungo raccogliamo il più possibile raccogliamo un po' di tutto facciamo un bel gesto dai scioccio è stato piuttosto lungo eh questo capitolo no no caspita dov'è che devo andare dove il via ecco qua teniamo a parlare parla parla dai che voglio vedere il filmato dai vai avanti sì 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 se vedi la nostra storia Vedremo come continuerà. Grazie per la visione ragazzi, alla prossima, ciao a tutti e buona giornata. No! No, 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 300, 300, 300, 17.000 mi ha tolto. Wow. No, 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 che male, che mal di testa. Malissimo. Bam, bam, boom, bim, bababum, vada boom. Aspetta, lui è veramente, ma veramente brutto. Sì, vabbè. Dai, dai, sì, poi? Certo, certo, esci dalla TV, esci. Vabbè. 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 Autore dei sorrisi